Sì, buongiorno a tutti, sono Roberto Castelli, mi è stato chiesto di fare un appello per Radio Radicale. Io ritengo che la democrazia del nostro Paese voglia che vi sia nel Paese una pluralità di voci e quindi più voci ci sono, meglio è, per cui ritengo che si debba appoggiare a qualsiasi iniziativa per salvaguardare tutte quelle emittenti che magari la pensano diversamente da noi, ma sono una ricchezza per la nostra democrazia, per il nostro Paese.